Ciao ragazzi, soy yo yo yo, Fala galera, come sta? Tutto bene? Chicos, come sta? Vosotros? No, ustedes, non lo sé. Ciao ragazzi, partiamo subito. Che cazzo è? Un albero infucato qui all'inizio ragazzi. Andiamo a infucare, a bruciare alberi così a caso, proprio per fare propaganda al contrario. Partiamo ragazzi in questa gara, si chiama Ultra Black, quindi credo tubi neri ragazzi, non pensate a male, non vorrei stuzzicare le vostre menti perverse, attenzione. Magari di chi è omosessuale è ancora peggio. Comunque ragazzi, chi è femminuccia, eccolo qui ragazzi, il tubo nero, scusate. E volevi! Con il nostro Osiris andiamo velocissimi, oh cazzo, guarda la proto come vola, sui tubi ragazzi, la patola che mi è davanti vola in una maniera assurda. Noi cerchiamo di mantenere il passo ragazzi, ok qui ci sono di, di, quasi trolle, però riusciamo facilmente a superarli ragazzi, se facciamo una cosa del genere, prendiamo più velocità, o mi sa di no. Ok abbiamo preso un po' di, oh bello, mettiti a posto, torniamo indietro, ok perfetto, 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 si torna indietro ragazzi, siamo al primo posto. Attenzione, non ho preso il turbo però, ah porca Eva, aspetta aspetta, no 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 no, ho perso un po' di velocità, ottimo questa 360 qui d'acqua. L'ho guardato moltissimo tempo, perché sennò raga sbagliavo, mi accappottavo da solo, dai 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 che ce la facciamo, oh sento là come una vespa, come un'ape, il suono della X80 proto dietro di me raga. Mi intimorisce non poco, è quello lì che arriva, oh porca Eva raga come va veloce, non so se sono due giri, quanti giri sono. Ma non me l'aspettavo, non se lo aspettavo, non se lo aspettavo, ok perfetto raga, questo ci sta dietro, oh è caduto giù, mi sa che è caduto giù, ottimo così, oh qui sto rischiando. Altro tubo nero, altro tubo nero a gara di Ben 876 ragazzi, beh, attenzione, non me l'aspettavo, di Ben Play il canale YouTube, molto buona questa corrida, Ben, parabéns, Ben Gay. Ok raga ora sto volando qui, non so dove, non so quando, però facciamo qualche pirouette così giusto per il pubblico non esplodere. Ok l'importante è cadere, l'importante è sbavare. Abbiamo uno Cyrus gialla lì dietro ragazzi, gialla crew, quanto cazzo lunga sta curva? Dobbiamo mantenere il ritmo, sono due giri quindi ragazzi la gara è abbastanza lunghetta, eh sì, eh sì, penso sia abbastanza lunghetta. Qui penso sia finito il primo giro, sì, con i cartelli della Peacewasser, la birra di GTA come ben sapete, perché siete così ubriachi e malati. Senza offesa raga, attenzione, curviamo ancora più stretta è possibile ragazzi, acceleratura a manetta, bene così. Sperando che lo share non mi faccia scherzi ragazzi, quindi se magari vedete questo video non me l'ha fatto, se no non vedete mai questo video. Già mi ha trovato due volte, abbiamo quattro secondi in più dietro agli altri, allora Thomas ha la X80 proto, quindi raga, otto secondi di distacco, possiamo stare ben tranquilli e possiamo dormire. Per ora sogni tranquilli, però dobbiamo stare attenti, già sento questo ronzio fastidioso della proto, lo sentite pure voi? Poi qua c'è un ronzio fastidioso della proto che proprio ti avverte che ti sta di troppo e pungere l'ano ecco, per non essere volgari. Ok ragazzi, veniamo qui, oh 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 oh, bella, bella, bellissima, bellissima. Ah qui pali, cartelli di cemento armato, capito, infilzati per terra. Thomas e l'altro sono lì ragazzi, sono comunque dietro di noi, un secondo di distacco ed è pochissima raga, è veramente pochissimo, quindi dobbiamo stare attenti. Qua l'unica cosa da fare, ecco quello che non ho, attenzione raga, che rischio. Comunque quello che non dobbiamo fare raga è farci recuperare, lì e là dietro ho un secondo di distacco praticamente. Non dobbiamo fare cazzate, ora dobbiamo stare concentrati. Io più di premere al massimo l'acceleratore non posso raga. Guardate come cazzo sta recuperando Thomas con la proto, meno male che qui sono finiti i tubi raga. La proto sui tubi è una cosa pazzesca, cioè va velocissima. Qui prima Thomas è caduto e ora cado pure io, lo sapevo. Raga me la sono gufata in una maniera assurda, volevo fare la curva veloce ma di veloce c'è stata solo la mia caduta lì nel cielo, cioè annaggia raga, terzi addirittura, vabbè. Gara puttane, gara puttane raga, porca eva. Vediamo se riusciamo a prendere almeno un secondo posto ma guardate quanto sono distanti, è impossibile. Alla fine qui ci sono solo dei tubi, mamma mia che mi trollano pure, cioè è assurdo raga. Una gara tutta al primo posto, fatta tutta in prima posizione, addirittura arriviamo in quarto posto, cioè no vabbè. Non ci voglio credere raga, è pazzesco quello che è successo in questa gara raga. Madonna mia, veramente pazzesco raga, non so perché il secondo posto si è suicidato, vabbè, noi andiamo a perderci un podio ma raga, sono proprio triste, nel senso che cioè sono dispiaciuto. È una gara dovevamo vincere, ho sbagliato in quella curva. Vabbè, va bene così ragazzi, se il video vi è piaciuto, ovviamente lasciate un like ozzo che fa sempre piacere a zio Alfix. Questa mi sta aspettando, no, 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 vai tu, vai tu, vai tu prima che ci fottano. Vabbè, bravo, bravo, bravo. Ragazzi ci vediamo al prossimo video, falow, è nice.